Gente, il balanzamento di un sorveggio è fondamentale a te per creare il mio negozio, ossia è fondamentale anche nel momento di fare il mio business plan, perché? Perché una risetta ben balanzata, nel comienzo, se io non ho il dinero per comprare una macchina importata che costa 150 mila, perché in un corso tal mi parlano, ah sì, questa macchina di un sorveggio non sai di questo tipo, mentira, mentira, perché è una questione solo di congelamento d'acqua, se io sei balanzare una risetta, io posso cominciare con una macchina più barata, cioè, gastare meno per aprire la mia loggia e poi, claro, se la loggia funziona, se il negozio vai para frente, un giorno se chiedo, mi compro una macchina migliore, ma, ripeto, un balanzamento credito, è fondamentale, gente, per economia di negozio, business plan, per qualche cosa, per il nostro negozio, un cliente che pide un sapore particolare, un cliente che si cheia, non, si lamentano, si lamentano, si cheia, si cheia, è molto dolce, è poco dolce, è molto azedo, è poco azedo, il sapore è fraco, è questo, è fondamentale, è fondamentale, è fondamentale, èrico, è poco dolce, è Xiaoyal, è un lavoro che si relaxa